Prima ha evaso gli arresti domiciliari e dopo, con l'aiuto di due complici, ha messo segno uno scippo ai danni di una 58enne. Nella tarda serata di ieri a Castel San Giovanni, un cittadino dominicano di 29 anni, ha evaso dagli arresti domiciliari, dileguandosi a bordo di un'autovettura. Poco dopo, la 58enne ha denunciato ai carabinieri di aver subito uno scippo ad opera di due uomini, in una via disarmato. I malviventi erano scesi in tutta fretta dal veicolo e li avevano strappato dal collo un monile dal valore di 300 euro, per poi fuggire in tutta fretta. È stata sicuramente una tida ben fatta, grazie alla collaborazione fra le forze dell'ordine e la cittadinanza, che nell'occasione hanno dato i dati identificativi della targa e hanno consentito l'identificazione di diversi soggetti che hanno commesso lo scippo e successivamente anche di altri due individui stranieri che sono rimasti coinvolti nella ricettazione della colanina asportata alla vittima. I carabinieri, dopo attente ricerche, hanno intercettato l'auto sull'argine del fiume Po, in località La Casella. A bordo erano presenti tre persone, due uomini e una donna, tra cui l'evaso. Accompagnati alla stazione dei carabinieri di Castel San Giovanni, tre hanno ammesso di aver consumato lo scippo e di aver venduto per 100 euro la collana a due cittadini romeni, entrambi residenti a Sarmato. I militari del nord della locale stazione hanno arrestato quindi per evasione il dominicano, detenuto agli arresti domiciliari, e lo hanno denunciato in stato di libertà per furto con strappo. Quest'ultima accusa è stata rivolta anche ai complici, un 39enne di origine siciliana e una 37enne di Genova, entrambi residenti a Castel San Giovanni. I cittadini romeni a cui era stata venduta la collana sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.